Bentornati cari amici di Economia Italia, oggi siamo qui con l'Associazione dei Sorosiani, infatti siamo con il Comitato Ventotenne, abbiamo Ruben Giovannoni, presidente se non vado errato, non vorrei dire una stupidaggine, nonché il papero, il papero. È la prima volta che vengo chiamato il papero, però sì, sì, in effetti sono il papero, poi spiega a te che esattamente cosa significa. Io vi do tempo per spiegarlo, c'è tempo per questa chiacchierata, sicuramente andremo a approfondire un paio di temi e arriveremo anche a questa storia del papero, però intanto vi invito a mettere un piccolo like, sostenere il canale e ovviamente a seguire anche il Comitato Ventotenne, sia su Twitter che su Facebook. Detto ciò, io volevo sapere se effettivamente è vera sta cosa che vi sponsorizza Soros, ma soprattutto chi cazzo è il Comitato Ventotenne? Magari ci sponsorizzasse Soros, abbiamo solo vinto il premio Spinelli che insomma ci ha aiutato anche da un punto di vista finanziario, Soros purtroppo non ha fuoriuscito un ghello, come si dice a Bologna, dalle sue tasche, purtroppo. No, non ci finanzia Soros, però il Comitato Ventotenne è un'associazione, è nata nel 2017 con tre temi che poi se vuoi andremo ad approfondire, cioè l'Europa, l'Ashish e l'SFR, che poi in realtà sono tre buzzwords perché non sono effettivamente temi per sé, cioè per Europa ovviamente noi siamo per l'Europa, a parte questa che è la felpa più comoda che ho in casa, guarda caso, neanche questa finanziata da Soros, per Europa siamo a dire che fondamentalmente l'Italia senza l'Europa torna il paesino provinciale che è ancora più provinciale di quanto non sia. Diciamo che senza una visione almeno, almeno di continente, l'Italia e gli italiani come popolo non hanno lo stesso respiro, non hanno le stesse potenzialità e non hanno la stessa libertà di fare nulla praticamente. Ci isoliamo come gli inglesi, però senza le potenzialità degli inglesi, pensa te che potenziale possa. Per Ashish in realtà abbiamo sempre scelto Ashish un po' come provocazione, ma è un po' un termine cappello, un portmanteau, come dicono in francese, che sta per le libertà personali, cioè non c'è solo l'Ashish dietro l'Ashish, cioè non c'è solo la droga, diciamo le droghe ricreative libere, ci sono ovviamente anche le libertà personali in più ampio spettro, diciamo. E scusate perché appunto sono tabagista come il qui presente, ma lui è bravo, ecco io no. Oddio, vorrei fare questa gara e vingerla fuori. No, anche la questione dell'eutanasia, dell'eutanasia legale in Italia senza dover fuggire all'estero, la questione anche dell'omogenitorialità che abbiamo coperto anche ultimamente grazie al gruppo media che si occupa delle pubblicazioni su tutti i social e di tante altre cose, che c'è qualsiasi roba che possa essere, diciamolo, progressista da un punto di vista culturale a livello che contesto italiano noi ci siamo, assolutamente. Abbiamo fatto anche degli eventi a tema, abbiamo fatto degli eventi a tema anche riguardo il terzo punto che è quello dell'Essefer, anche questo, un portmanteau, però che significa l'Essefer? Cioè le libertà economiche di un cittadino, meno Stato, Stato gestito meglio, uno Stato funzionale e che non si metta in mezzo ai, si può dire? Sì, 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 tipo si può dire, si può dire, si può dire, cioè libertà di parola, finché non si cade nel becero insulto, assolutamente. Ma ascoltami un attimo, quindi in buona sostanza siete europeisti, progressisti e liberisti? Su liberale, su quante B servano il liberale per descrivere un liberale, ci abbiamo fatto dei meme anni e anni fa, addirittura prima del lockdown, è stato uno dei primi meme che abbiamo buttato fuori, io non c'ero ancora. Diciamo che liberale e liberista ormai sono più... Diciamo che nel corso degli ultimi anni in particolare hanno definito un certo tipo di di far politica, è questa la questione. Un certo tipo di far politica che in Italia ha assunto una connotazione un po' becera. Liberale e liberista in realtà all'estero, non per essere esterofilo, per forza. Però la questione è che il liberale e liberista in genere fuori dall'Italia hanno un modo di far politica, un modo di agire nella comunità che sono ben diversi da quell'italiano e purtroppo non possiamo farne parte della comunità liberale e liberista in Italia, perché appunto, per vari motivi, da un punto di vista politico siamo abbastanza distanti, però appunto si parla di politica e non di partitica sempre. Cioè, chi è che è in Italia secondo te liberista a questo punto? Perché così non c'è bisogno di capire. Questa è un'opinione assolutamente personale. Il liberista in Italia è un po'... Il liberista in Italia in generale non sa cosa significa liberismo. E questa è la questione. Io in generale ho sempre visto persone che o sono estremamente liberiste, estremamente liberiste, cioè tipo che lo Stato deve uscire dalla sanità pubblica, ripeto, parlo da un punto di vista personale, non come Presidente del Comitato Ventotene, liberista al punto che lo Stato deve togliere qualsiasi finanziamento anche alle cose che bene o male funzionano, cioè sanità, scuola con tutti i sei, ma ovviamente, però tutte le cose che funzionano lo Stato deve togliere, cioè alla Thatcher, diciamo, e quello è un po' un livello estrema, insomma alcuni, anche alcuni... Io ne conosco di peggio, onestamente, tra l'altro. Oddio, un livello estrema, però mi sembrerebbe da definire quasi un livello tutto sommato quasi accettabile, vedendo cosa circola nell'universo. È quello, perché poi ci sono i liberisti e la Salvini, cioè quelli che non sanno cos'è il liberismo e che dicono siamo liberisti proprio per zona vagamente partitica e poi dopo dicono Stato ovunque. E non è liberismo. Vabbè, basta che metta la flat tax e poi è liberale. Esatto, è già quello un liberismo. No, ma anche Conte penso che si fosse definito liberista, ma chi è che non si è definito tale? Alla fine della fiera mi sembra che il governo più liberista degli ultimi dieci anni sia quello della Meloni. L'ho detto tutto. Esatto. Ricordiamo che il politico più... che ha fatto più politiche liberiste in Italia è il signor Bersani. Sì, 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 assolutamente. Convengo, convengo. Fa molto ridere, però ti devo dire che ultimamente non so se per opinioni politiche, per tornaconto personale, per legittima scelta di tornare indietro, oppure per chissà che cos'altro, ovviamente non spero cose negative, però semplicemente ripensamenti generici. Ecco, ha dichiarato che le sue scelte non erano proprio il massimo. Ovviamente un posizionamento. Beh, suppongo di sì, anche perché grazie a lui per dire che c'è stata la concorrenza sulla telefonia, per dire tutte le regole sulle assicurazioni che hanno cercato di limitare notevolmente l'oligopolio. Poi ci mancherebbe, nessuno è perfetto, non sto qua a lodare Bersani. Non vorrei passare per Filo Bersaniano. C'è da dire anche una cosa, cioè che se non è stato lui a portare quelle cose concrete e positive, è stata poi l'Europa, perché magari c'è stato dietro un regolamento europeo, una direttiva europea, perciò in realtà se non è lui è un altro e perciò noi comunque supportiamo queste cose al 100%. No, no, assolutamente, assolutamente. Però europeisti non avete difficoltà a definirvi. No, no. Ma che tipo di Europa avete in testa? Cioè, voi portate avanti un discorso generico o più che altro vi rifate a modelli federali? Tipo ad esempio, visto che stiamo facendo un po' di pubblicità a un'associazione, facciamola anche un'altra, giusto per non scomodare la par condizio, però ad esempio i giovani federalisti europei, il movimento federalista europeo, diciamo un'idea di Europa federale, un'idea di Europa anche alla francese, non lo so, oppure un'idea di Europa confederale che io non ho ancora capito come funziona, ad esempio stile Meloni. Che idea di Europa? Perché ce ne sono tante di Europa ho visto. Eh, ce ne abbiamo tante anche noi di idee di Europa. È un discorso che in realtà da questo punto di vista dovremmo affrontare anche lì all'interno. Ci sono persone che sono più una federazione europea, ci sono persone, so, ci parlo ovviamente, che sono più per un'unione tout court, ci sono persone che sono per lo stile francese, scusa, per lo stile americano di federazione, cioè stati però comunque con una forte dose federale. Ci sono altre persone, ho sentito negli anni parlare di confederazione, appunto ovviamente l'unica confederazione che si ha in mente è lo stile svizzero, ci sarebbe da studiarlo un po' come come sia questo stile svizzero da questo punto di vista. Il Comitato Ventotene non ha un'unica anima dentro di sé, è molto variegato da questo punto di vista. Mi piacerebbe a livello personale, ma in realtà sarebbe molto bello anche vederlo come spinta associativa, vedere un'Europa ovviamente federale, unita in un senso federale e poi noi spingiamo molto su questo aspetto perché in realtà è il prossimo punto secondo me, oltre alla questione politica, unitaria politica, c'è sicuramente la questione militare, unitaria militare e questa è una cosa su cui noi spingiamo molto come associazione e su cui io sono assolutamente d'accordo. Senza, e porca miseria scusate, senza un'unione da un punto di vista, un corpo comunque militare, unitario, noi siamo comunque non del tutto forti a livello globale, non possiamo sicuramente avere una voce, un coordinamento unitario alle sfide che comunque si presenteranno purtroppo perché le abbiamo già viste, una sfida è quella nell'est. Ma il problema, se tu ci pensi, perdonami se ti interrompo, però qua magari si può aprire una finestra di discussione, nel senso che io sono d'accordissimo con te che prima o poi dovremmo arrivare a un esercito europeo. La mia paura principalmente è che si finisca come con Europol, cioè una situazione in cui banalmente c'è un coordinamento e via discorrendo, ma diciamo a un certo punto tu ti perdi la Danimarca per dire, per fare un esempio, perché giustamente non si va più a decidere all'unanimità dei presenti ma maggioranza qualificata, oppure perdonami si passa da maggioranza qualificata a maggioranza relativa. Ora non mi ricordo più quale fosse il cavillo che aveva spinto appunto la Danimarca a uscire da Europol che poi rimaneva dentro Europol che puoi far ridere. Il discorso è un pochino più complesso. Però il problema reale è che quando parliamo di Europol capisco perfettamente la necessità di avere un organo di coordinamento quantomeno. Però ad esempio a me vedere l'esercito europeo solo come organo di coordinamento mi saprebbe tanto di sconfitta. No, assolutamente. Ma mi piacerebbe vederlo un po' come organo reale con uno stato maggiore europeo. Però per avere questa cosetta qua, secondo me, prima devi avere il potere coercitivo. Questo significa che parte degli stati, che anzi non parte degli stati, gli stati europei devono cedere sovranità perché per ora non l'hanno ancora mai ceduta. Secondo me è un po' difficile perché altrimenti non hai un effettivo stato maggiore. Vero, è vero. No, 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 no. Cioè nel senso non è un coordinamento e basta, devono esserci delle truppe stanziate da ogni paese. E una cosa che hai detto e su cui assolutamente sono d'accordo, e in realtà anche come comitato siamo d'accordo, che è un po' anche la posizione di molti dei partiti europeisti, veramente europeisti, che ci sono in Italia perché ce ne sono alcuni per convenienza, alcuni no. C'è da cambiare questa regola che si decide all'unanimità a livello europeo. Questo è stato un blocco per tantissime cose, è stata anche una leva per gli Orban di turno per far andare cose nella loro direzione. È sempre un po' la cosa delle leve politiche che a me... Sono d'accordo, ma ho paura. Eh, l'ho certo. No, perché noi siamo quasi sempre in minoranza. Ah, beh, ma... Forse ce lo meritiamo ogni tanto. Cioè nel senso sarei... Cioè nel senso quello che dico io è che essendo che sia sempre in minoranza, essendo che bene o male, mi piacciono molto di più, non che siano migliori, però mi piacciono molto di più, che è un pochino diverso, alcune scelte a livello europeo. Tipo ad esempio il 2035 secondo me è sbagliato, però questa è una mia opinione personale. No, secondo me. Anche secco personal. Perfetto. Però, ad esempio, il fatto che l'Italia diventa, divenga appunto un paese che subisce la direttiva o il regolamento europeo, poi certo anche qui ci sono vari distinguo da fare, ci mancherebbe, però ecco, secondo me potrebbe alimentare tranquillamente movimenti estremisti che paradossalmente non favoriscono un'omogeneizzazione all'interno dell'Unione Europea, ma semmai alimenta la polarizzazione. Io credo che serva proprio un movimento culturale per sentirsi europei più che altro, un'imposizione dall'alto. Temo che non funzioni più che altro. Non so se sei d'accordo. No, è vero, è vero. È un po' la questione del peso culturale che ha l'Europa nel quotidiano di uno Stato. C'è però anche da dire che dipende anche molto dai governi, nel senso che se i governi italiani si sono dimostrati da una parte ineffettivi, cioè non capaci, dall'altra parte convenientemente dall'altra parte, diciamo che viva l'Europa. C'era anche da dire una cosa che non mi ricordo più, mi è sfuggita adesso, però sì, in effetti in effetti, ah no, che la questione degli estremismi, che è una cosa che in questi ultimi anni parlo fin dalla Brexit. Io penso fin dalla Brexit che dietro gli estremismi ci sia una volontà politica esterna, russa. E è stata dimostrata, è stata dimostrata. Tutti i, o quasi tutti i movimenti estremisti che si sono realizzati negli ultimi 10-15 anni in Europa, negli Stati ovviamente dentro l'Europa, dentro gli Stati nazionali, volevo dire, hanno una forte connotazione filo-russa. O comunque sono stati finanziati dalla Russia, o comunque hanno un'affinità con Russia unita. Perciò, prima sconfiggiamo la Russia, meglio è, uno. Due, dobbiamo tirare fuori i coglioni noi e non dire più, poverini, poverini, no, no, includiamoli come faceva la Merkel, che in realtà aveva anche un senso, ma si è dimostrato finto e sbagliato. Merkel e Schroeder in realtà, poi dopo non solo Merkel. Perciò non si può aver paura di fare delle scelte per paura degli estremismi, se non si dà una bella connotazione chiara a da dove partono questi estremismi. Questa è una cosa su cui voglio essere molto chiaro, perché tutti gli estremismi, ovviamente di destra e di sinistra, comunque tutti i movimenti che si sono realizzati negli ultimi 15 anni, hanno una matrice chiara, perciò non direi all'Europa, abbi paura a prendere decisioni, andiamo avanti, andiamo avanti, cioè andiamo avanti proprio come unità, perché finché non si dà le etichette che bisogna metterci, non si va da nessuna parte, lì non si va da nessuna parte davvero. Io su questo tema ti dirò, ho un'opinione un po' diversa, ma che giunge a conclusioni molto simili alle tue. E secondo me è interessante magari discuterne un attimo, perché ad esempio qua in Rassegna abbiamo letto un articolo molto vecchio del Guardian, penso che sia, non vorrei esagerare, ma del 2009 o del 2012. Non c'era Stoltenberg, capo della Nato, comunque diciamo alto rappresentante dalla Nato, ma c'era un suo predecessore. Ora non vorrei far confusione, quindi evito di fare figuracce. Però lui a un certo punto dice una certa cosa, cioè che dietro alcuni investimenti, anche per quanto riguarda il gas, ci sarebbe la spinta, o per le rinnovabili, diciamo comunque in materia energetica ci sarebbe la spinta da parte russa. E questa dichiarazione all'epoca fece scalpore. Oggi, col senno di poi, tanto difficile da credere non è. Dopodiché mi sarebbe da dire, come the fucking data, nel senso, dimostramelo. Ci mancherebbe, possiamo usare il rasoio di Oakland e via discorrendo, però secondo me è un po' difficile. Dopodiché ti aggiungo due suggestioni, secondo me interessanti. IRP Media recentemente ha rilasciato un report, l'ha fatto insieme anche altre testate, diciamo, in giro per Europa, grazie anche appunto all'apporto di hacker ucraini. Abbiamo avuto qua IRP Media, tra l'altro, te lo consiglio se lo vuoi portare sul tuo podcast, ma poi ci arriviamo a parlare di podcast, se magari ti torna utile. Però ecco, in quel report che hanno pubblicato IRP Media su appunto le influenze russe all'interno della politica veneta italiana, veneta in particolar modo per quanto riguarda la zona Lega, anche se il consigliere in questione non è, il consigliere regionale in questione non è tesserato alla Lega. Va detto, per chiarezza, perché altrimenti c'è magari qualcuno che capisce male. E unendo quello che si evince da quel report, con ad esempio alcuni dei racconti che fa Jacopo Iacoboni attraverso oligarchi, cosa ne esce? Nesce non tanto un fattore di corruzione, cioè nel senso io ho un'opinione neutra o di una certa fazione e per convenienza personale accetto del denaro o accetto diciamo una spintarella magari dal punto di vista della carriera o semplicemente di contatti e cambio opinione in modo tale da favorire questa o quell'altra fazione. Ma secondo me c'è proprio una situazione in cui ci sono tante persone che hanno già quell'opinione, quindi che vengono o soggiocate barra ingannate per sostenere le loro posizioni. Vedi ultima generazione, io credo che larga parte di essi, di loro, sono davvero convinti che quella è la soluzione migliore. Poi non so se tu sei d'accordo, magari potrebbero ricevere fondi da enti diciamo abbastanza oscuri, un po' come appunto raccontava IRP Media. Oppure ci sono delle situazioni in cui veramente basta poco denaro per spingere una persona a fare una determinata azione, ma quell'azione probabilmente l'avrebbe fatta né più né meno, per sue convinzioni. Io credo che in verità ci sia proprio questa volontà anche di, non lo so, di andare contro per quanto riguarda appunto le questioni legate all'energia e quindi legarci, non so, a doppio filo con la Russia, oppure semplicemente creare destabilizzazione politica. E qua magari ti cido, giusto per citare anche qua un altro fatto secondo me rilevante degli ultimi vent'anni, la questione legata alla Catalogna. Anche lì sembrerebbe che ci siano delle interferenze. Quindi secondo me non è tanto corruzione fino a se stessa. Cioè proprio è una situazione di concursione. Tu vuoi essere corrotto. C'è da dire che, esatto, c'erano i comitati di imprenditori appunto in Veneto, ma non sono in Veneto, anche in Lombardia. C'era il famoso, mi sembra che fosse Veneto, ma quello che ha costruito il tavolo di Putin, che ha costruito anche altri mobili, altri furniture, per il Cremlino, ed era dentro questo comitato, era una camera di commercio, comunque era legata alla camera di commercio e parlava direttamente con la camera di commercio di Mosca. Perciò, certo, ci sono quelli che lo fanno per convenienza letteralmente economica, cioè non sono finanziati da Putin. Cioè sono letteralmente persone che con la Russia ci facevano i soldi. Persone del lusso, persone dell'artigianato, persone che imprenditori, sì, del lusso, del vino, di tutte quelle cose lì. E poi ci sono gli utili idioti di ultima generazione che stanno però remando contro i loro stessi ideali, perché se il tuo obiettivo è creare, diciamo, massa critica attorno degli argomenti, in questo modo secondo me ti sta alienando letteralmente la massa critica che vorresti avvicinarti. Anzi, stai facendo massa critica al contrario. È il tuo obiettivo? Non penso. Lo stai facendo bene? No. No. Assolutamente no. Però, insomma, quello fanno. E non penso che neanche loro siano finanziati dalla Russia. Questo no. Questo hai detto bene. Non ci sono solo persone e movimenti finanziati dalla Russia. Ci sono persone che sono sinceramente, diciamo, pro-business con l'Est e persone sinceramente contro il petrolio pro-Ovest, però che stanno facendo tutti e due, nonostante non siano corrotti, sono appunto al massimo largamente e vastamente interessati. Ecco dai, passiamo al termine di partenariato, no? Che ben inteso. C'è un po' da tutte e due le parti, però diciamo che se da una parte, diciamo, l'interesse è puramente legato magari a quella singola fattispecie, insomma, l'attività di lobbying, penso che non scopriamo niente di male. No. Secondo me invece in quella precisa fattispecie c'è un altro disegno, cioè un disegno un pochino più vasto e un pochino più ampio. C'è una lieve differenza, però anche qui sono mie opinioni personali. E parlando appunto di partenariato, ecco, io volevo tirar fuori un tema croccante che è uscito fuori in questi giorni, cioè quello del GDPR, no? Perché giustamente uno può dire, sì, parli tanto di Russia e via discorrendo, ma guarda l'Unione Europea, cioè ha creato questo GDPR e la prima vittima è l'Italia. E quindi io ti chiedo, ma insomma sta Unione Europea, no? Tanto bella, tanto brava, tanto, non lo so, magnanima, ok? Che ci distribuisce il PNRR gratuitamente. Qualche volta però, insomma, si crea anche delle regole che applicandole, perché poi io ovviamente il beneficio del dubbio lo distribuisco, quindi ci mancherebbe lavoro nell'ambito IT, però comunque non vorrei far passare cose vere quando non ho possibilità di certificarlo, però insomma il GDPR, secondo garante applicato in modo corretto, eccetera, 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 insomma ha bloccato, no, in verità ha bloccato il trattamento dei dati e quindi chat CPT ha deciso di chiudere quantomeno front-end nei confronti appunto dei cittadini italiani. Ecco, qui è una questione filosofica, quindi. L'Unione Europea è sempre buona, non è buona, cioè cosa ne pensi tu di queste questioni? C'è la questione che è prettamente legata al GDPR che diciamo che è garante dei dati, della privacy in Italia secondo me ha agito per eccesso di zelo. Oppure perché serviva fondamentalmente una bandierina di qualche tipo? Non lo so. Penso che noi che abbiamo il VPN ci arrangiamo, è chiaro, però non è quello il punto, cioè il punto è perché si è stato bloccato e poi appunto si allarga tutta la questione. L'Unione Europea è buona? L'Unione Europea è uno strumento, non parlo di armi, parlo di strumenti in generale. Lo strumento non è intrinsecamente buono o cattivo, è buono chi lo usa e cattivo chi lo usa nel modo corretto o giusto. Il GDPR penso seriamente che sia un buonissimo punto di difesa dei cittadini europei, questo in generale è in assoluto, questo in generale non in assoluto, penso che comunque sia un punto a cui si è arrivati, a cui per esempio per vari motivi negli Stati Uniti non ci sia ancora arrivati, se mai ci si arriverà, se mai c'è la volontà politica di arrivarci. Penso che il GDPR, perché stiamo parlando di questo, e poi dopo ci allarghiamo, sia una cosa intrinsecamente buona. Cioè una buonissima base di partenza, poi dopo ci sono alcune strettoie, per esempio a me che ci sia sempre il banner su tutti i siti, sia obbligatorio, altrimenti multa multa multa, che mi stai prendendo i cookies, dai su, ecco, ci siamo capiti. Però la questione è che non è quello in sé, è un modo per dire agli utenti, sì questo sito ti sta prendendo i cookies, dopo non è poi questo sito, è magari il browser, magari quest'altra cosa qua, è un modo per dire, anche agli utenti meno sguarniti, cioè più sguarniti di informazioni, è facile che i tuoi dati personali siano a rischio. Questo non è obbligatorio, quasi penso, in nessun'altra parte del mondo, e però è una questione che sempre più si presenterà agli utenti del web nel corso dei prossimi anni, e noi siamo stati all'avanguardia da questo punto di vista. Dopo, l'Unione Europea ha sempre ragione? No, neanche Mussolini aveva sempre ragione, nonostante lo si dicesse di Mussolini. Mussolini ha sempre ragione? No, neanche l'Unione Europea ha sempre ragione, e io non sono un massimalista in nulla, in nulla, solo a livello artistico sono un massimalista. penso che l'Unione Europea appunto la si ami, la si ami per quello che è, ma proprio perché la si ama la si vuole migliorare, le si vuole togliere alcuni lacci e lacciuogli, le si vuole anche dire no, così no, gli si vuole anche dire magari se avessimo stretto qualche vite qualche anno fa sarebbero andate meglio le cose, però si sta vedendo che appunto negli ultimi anni in particolare c'è una direzione che mi sembra quella giusta, perché abbiamo capito e abbiamo capito dei nostri errori in quanto europei diciamo che amano l'Unione Europea per quello che è, cioè che si può arrivare a quello che vogliamo, cioè una maggiore integrazione, una maggiore, una maggiore indipendenza diciamo anche identitaria che non c'è mai stata così forte e anche cioè pararsi il culo, l'Unione Europea non si è mai parata il culo davvero, l'Unione Europea, io penso che l'Unione Europea abbia, sia sempre, poi dopo sicuramente mi sbaglierò e questo è un'opinione personale, penso che si sia, abbia sempre sorriso un po' a tutti, dove c'è occasione di fare business noi siamo i migliori, parliamo con tutto il mondo per fare business e poi dopo però in realtà abbiamo sottacciuto delle cose che non dovevamo far passare, che si parli di Cina, che si parli di Russia, che si parli anche di certe stance che dovevamo prendere con gli... Anche in Turchia, se ti ricordi quando c'era il dibattito, per farne entrare o meno, mi sembra che sugli armeni poco ci interessava. Eh, appunto, cioè su alcune cose diciamo che abbiamo pestato molto poco i piedi, abbiamo puntato molto poco i piedi, non abbiamo pestato i piedi per convenienza, non abbiamo puntato i piedi per codardia, oppure comunque per cercare di... no, volemose bene, non si può voler bene tutti. No, no, sono d'accordo, sono d'accordo su questo, sì, tornando al GDPR, io credo che sia un buon punto di arrivo, devo dire. Purtroppo però, ecco, qui il tema secondo me è che stiamo di fronte a una nuova tecnologia e tu avevi pensato giustamente questo regolamento e già avevi dei difetti secondo me, ok? Nel senso che, cioè nel senso, non basta semplicemente dirmi stai usando i tuoi dati, che condizioni le utilizzi e puoi tirarmi fuori una sfizia di 70 pagine e quindi, buon, basta che io sclicco e ho accettato, ok? Non è così. Nel senso, no, cioè, ok, ripensiamoci un secondo per dire, non mi sembra proprio il massimo della vita, anche perché spesso volentieri il GDPR ti dice vogliamo trasparenza, ma quella trasparenza non c'è. Nel senso che se dovessi veramente guardare dove vanno realmente i miei cookie, comunque i miei dati, per ogni sito che visito ogni giorno, probabilmente faccio quattro ricerche nel giro di una giornata, in verità io visito, penso, 100-200 link al giorno, cioè nel senso non so quanti, sparo un numero ovviamente, però capisci perfettamente che è un pochino diverso. Quindi sì, secondo me lì è la lentezza. Probabilmente sul GDPR abbiamo raggiunto quel tema di unità sotto certi aspetti, perché non era un tema una campagna elettorale. No. Cioè nel senso, chi cazzo fa campagna elettorale sul GDPR? No, nessuno. No, si può fare solo a livello europeo. Si può fare solo a livello europeo come quelle cose che, cioè quelle cose che quando te le presentano, quando te le presentano, che vengono in campagna elettorale, quelli che si vogliono fare eleggere al Parlamento europeo, ti dicono c'è anche la questione del GDPR e tu la prima cosa che ti chiedi non è ci serve o non ci serve, è? Cos'è? Punto interrogativo. Poi dopo magari anzi ti informi perché magari ti interessa la materia, capisci che alla fine un modo per difendere gli utenti di internet dal fatto che gli si rubino i dati serve. Come? Ovviamente quello è stato il modo. Quello è stato il modo è un po' come dire no. Cioè alle imprese del web si dice dici almeno dove li metti, dici almeno cosa ne fai. Dopo che sia il miglior modo ovviamente non lo so. Molti dubbi. Eh vabbè. È sicuramente un buon modo. Non è il miglior modo magari. È un inizio. Sicuramente ci sarà, ripeto, da stringere delle viti. Sì sì no, sono d'accordo. Tra l'altro tu hai citato un tema prima e poi magari ne tiriamo fuori anche un altro. Cioè il fatto che l'Unione Europea si faccia ogni volta che c'è una crisi, in fin dei conti. Cioè nel senso se tu ci pensi, crisi del 2007, in verità non tantissimo, però è sfociata nella crisi dei multi subprime e quindi abbiamo trovato un nuovo strumento che poteva essere quanta divisa o comunque anche altri strumenti in campo monetario. Poi se ci pensi, parliamo anche di MES per dire, MES, l'antenato del MES è stato creato proprio lì, durante quel periodo. E poi se ci pensi successivamente, comunque un protoconcetto di debito europeo e di unione di intenti e di investimenti, con tutta una serie di sei ma però forse, perché io non è che sono da favore, tu cura al PNRR, così nel senso sono d'accordo con l'idea generale, col principio ispiratore, poi quando viene calata nel concreto qualche dubbio, ecco, qualche perplessità. Però ecco questa cosa è stata creata anche con, appunto, il problema legato alla pandemia, quindi il lockdown e via discorrendo. Quindi mi sembra proprio che noi abbiamo la necessità proprio di un vincolo esterno e anche qui cito il discorso che facevo a sabato, vabbè, sabato pomeriggio è un incontro, il buon Arfaras, bisognerebbe quasi festeggiare quando c'è una crisi, che è un discorso estremamente cinico. Se si arriva agli obiettivi solo con la crisi, c'è solo da sperare che ci siano le persone giuste nel momento giusto o il posto giusto, perché non penso che, cioè, non lo so, i processi decisionali per chi mettere come Presidente della Commissione penso che abbiano tirato fuori persone capaci. Penso che in questo momento sia anche il team che compone la Commissione Europea sia un buon team. una, cito ovviamente alla Presidente, la von der Leyen, per me, tra l'altro penso, prova a controllare per piacere se c'è ancora la Vestager. Penso di sì, non vorrei dire una stupidata. Ci sono dei personaggi molto, ecco, perfetto, beh, è inamovibile, ma proprio perché ha dimostrato anche nella scorsa nella scorsa legislatura e nella scorsa consigliatura di essere una persona con due coglioni così, con due coglioni così. Ci sono personaggi che siamo fortunati a livello europeo di avere perché danno ulteriore credibilità alle istituzioni. C'è da averli, c'è da avere un processo decisionale che li metta e continua a metterli perché poi quando non c'è più la Vestager ci sarà una persona capace altrettanto o anche solo che inizia a dire alle aziende che vogliono non fare concorrenza, no, voi la fate. È il territorio, è europeo, non ci prendete per il culo. E noi queste prese di posizione servono. Scusa, mi sono perso. La domanda qual'era? No, la domanda non era una domanda, era una costituzione potremmo dirci. La domanda invece è questa, che la recupero dalla chat sostanzialmente. Praticamente in chat c'è chi è che secondo me non ha tutti i torti a scritto. E quindi direi che anche qua è una bella critica all'Unione Europea. Cioè un italiano non si sente europeo anche perché, ad esempio, nel caso di appunto Giulio Reggeni, che voi avete seguito moltissimo, mi ricordo perfettamente, non è intervenuta appunto questa Unione Europea. Per dire, ma se ci penso anche, adesso farò un meme, in Marò. È vero che si tratta sempre di, è vero che anche qui si tratta di italiani, la questione è un pochino più delicata, sono d'accordo. Però vabbè, prendiamo soltanto Giulio Reggeni. Però cerchiamo di capire e di generalizzare il tutto. Se questa Unione Europea, quando il cittadino europeo o comunque lo Stato che fa parte dell'Unione Europea è in difficoltà, in serie difficoltà. E se ci pensi, adesso c'è la questione anche legata alla Tunisia, al Fondo Monetario Internazionale, ai profughi, che comunque colpiranno l'Unione Europea, eccetera, eccetera. Cioè, quando si tratta di parlare con l'estero, questa Unione Europea non mi sembra proprio presentissima. Ecco. A parte la questione ucraina, ok? Che paradossalmente ha creato, sembra strano, però una risposta europea, tutto sommato, omogenea, strano alcuni paesi veramente estremisti. Però diciamo che sotto certi aspetti io non mi aspettavo. Ecco, una risposta così coesa, rapida, incisiva e comunque, meno male, sta durando quasi un anno e mezzo. Nel senso, ci sono state quante lezioni di mezzo? Quella francese, quella italiana. Quella finlandese, tra le altre. Vabbè, adesso però un pochino più recente. Ed attuale. Esatto. Però c'è stato anche Rutmica, si è rimesso ed è stato riletto, se non vado errato, nel frattempo. C'è stato lo scossone anche in Austria. Cioè, nel senso, un po' di capi di Stato, comunque di capi di governo, sono girati. Ora non vorrei aver detto stupidaggini, sicuramente uno l'ho sbagliato. Però ecco, l'abbiamo mantenuta. Quindi, perché l'Unione Europea, invece, in altri casi, magari meno di portata, non lo so, mediatica, non si fa sentire? Allora, hai parlato di Frontex, che è uno dei, diciamo, secondo me, punti meno fermi, meno forti, attualmente, dell'Unione Europea. Poi dopo sicuramente ha fatto anche delle cose utili. Però... Vabbè, potrei citarti Italiani, che l'altro giorno ha scritto, ha detto, che ha scritto, Mussolini ha fatto più danni che cose utili. Quindi, ottimo. Sta switchando, piano piano sta schivolando. No, io dico quello che ho detto a una platea di persone di estrema destra con cui ho avuto il piacere di parlare sulla questione Regeni. E poi parlerò della questione europea, riguardo la questione Regeni, riguardo la questione dei Marò, eccetera, in quanto risposta unitaria. E tu ti aspetteresti da persone di destra che difendano un cittadino italiano, comunque che è un paese estero che uccide un cittadino italiano, dicano, guai a te, uno, due, adesso mi mandi tutte le persone che sono coinvolte e ci facciamo un bel processo, però lo facciamo adesso. A costo di mandargli, di minacciarli, di minacciarli nel senso portargli davanti, fare una blockade militare. C'erano interessi economici, purtroppo. è questo che mi fa incazzare, quello che mi fa incazzare da un punto di vista politico è che si sono switchate le cose. Cioè un cittadino italiano non viene difeso dalle destre, viene difeso dalla sinistra, vabbè, per questioni ideologiche, ma va benissimo. Io difendevo, io per Giulio ho litigato con decine di persone. Come membro del Comitato Ventotene, io sono orgoglioso che il Comitato Ventotene su questa roba qua non si è mai mosso. Cioè, verità, da parte dell'Egitto, da parte di quel figlio di puttana di Al-Sisi, sulla questione Giulio Regeni. La questione mi fa incazzare che la gente di destra dovrebbe dire la nostra stessa cosa, anche solo per il fatto che sia stato un cittadino italiano ammazzato all'estero. Torturato ed ammazzato all'estero. È lineare. Soltanto che è di sinistra, probabilmente per quello. Cioè, capisci la stupidata. Cioè, capisci la stupidata. Infatti, quando ho detto, cioè, ero più scaldato di così, perché poi mi scaldo in fretta perché sono emiliano, scusa. Però la questione è che, perché mi ridono in faccia, non mi fa incazzare che mi ridono in faccia, mi fa incazzare che davanti ai temi tu non pensi e ridi. A me fa incazzare poi che poi quando te la spiego come te la spiego io, mi dai anche ragione. Allora sei un cretino due volte. Vabbè, poco importa. La questione è che l'Unione Europea, da quel punto di vista, non è che dovesse intervenire o meno. È carente. Cioè, è carente nel senso che non ha un modo per né implementare delle strategie contro queste cose qua, né ha il potere. Sì, può sicuramente andare dal Sisi a dire cosa succede qua. Ecco. Però l'ente che ha avuto un danno è l'Italia. L'Italia doveva muoversi. Non c'è un coordinamento. Si è mosso l'Europol, se non sbaglio, proprio in quanto cittadini italiani, ma hanno fatto poco, proprio perché chissà che cazzo di insabbiamenti ci sono. E mi dispiace parlare di insabbiamenti, però c'è la questione. Se non si è arrivati a fare processi, proprio non rispondono alle lettere della magistratura italiana. Sicuramente al Sisi è copertissimo, perché figurati. E poi dopo a un certo punto sale la Meloni, fanno una foto con una stretta di mano. Figurati che cosa può aspettarti da un discorso del genere. Ci sono tante cose che l'Unione Europea può fare. Sì, assolutamente. La questione è che serve la volontà politica di farle, prima di tutto. Serve sempre un... Parlavamo di coordinamento per quanto riguarda l'esercito e ho detto infatti che non basta un coordinamento, serve una forza comune con migliaia di persone da ciascun paese che si radunino, facciano esercitazioni in modo unitario, che ci sia un comando generale unitario per quella forza lì. Ma per gli altri punti, tipo Frontex, tipo appunto la difesa dei cittadini europei, ci sono delle cose, ci sono sicuramente delle cose, difesa dei cittadini europei all'estero ovviamente, ci sono delle cose. Non serve più coordinamento, serve un migliore coordinamento, perché ci sono già i coordinamenti. È che capita che vadano a spot, capita che vengano rallentati dalle volontà di alcuni paesi. Sì, serve appunto, è proprio per questo che noi spingiamo sempre sulla federazione europea, perché adesso siamo solo un gruppo di stati che hanno fatto un trattato. Ma finché non sei una federazione, non puoi decidere in modo unitario, se non sempre tramite altri trattatini, 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 ma un trattatino devi prima farlo e devi farlo per forza in modo univoco e deciderlo a maggioranza, non a maggioranza, aiutami a, com'è che si dice? Unanimità. Unanimità. Cioè, o decidi all'unanimità o altrimenti fai delle cose per aggirare questa unanimità. Finché non c'è la federazione, non si può avere un peso su nessuno, un peso vero, perché un peso ce l'abbiamo, un peso vero, su nessuno dei temi su cui vogliamo avere un peso vero. Fine. È per questo che noi spingiamo per la federazione, almeno per la federazione, o almeno per mettere i coglioni sul tavolo. Perché quella è la direzione, altrimenti, cioè, stiamo qua a perdere tempo, stiamo qua a giocare. E non la voglia. Certo, 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 però capisci bene che, ecco, qua, cioè, secondo me è un tema proprio di comunicazione. Sì, è vero. Cioè, un tema di comunicazione nel senso che non devi spiegare al cittadino del Texas, come dicevano in chat, che se va all'estero, lui è un cittadino degli Stati Uniti d'America. Sì. Come? Non devi spiegare a quello che abita in Quebec, perché anche il Canada, mi pare, abbia un sistema federale, che lui è un cittadino canadese, ok? E via discorrendo, potremmo fare anche l'India, un sistema federale, mi pare evidente che anche loro, quando vanno all'estero, è comunque un cittadino indiano, questa persona, quando va all'estero. Il problema è che, anche qui ne parlavo con Fra, quando è andata, Francesca Palumbo, quando è andata, appunto, in Parlamento, ha fatto due giorni al Parlamento europeo, uno o due giorni, adesso non mi ricordo più, quindi chiedo scusa, forse erano anche tre, via discorrendo, però, ecco, lei mi parlava della sensazione che si provava lì, cioè si provava lì la sensazione di essere cittadini europei, si provava, però questa cosa non si prova in Italia, cioè, probabilmente perché è relativamente giovane, ok? Però in verità la comunità, appunto, del carbone e dell'acciaio esiste da mo', non è che esiste da ieri. Era un'altra cosa, però, ovviamente. Esatto, sì, 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 no, sicuramente, però mi sembra proprio che si è fatta l'Europa per parafrasare Gaber, ma non si sono fatti gli europei. Non so se serva per forza di cose una prima guerra mondiale, no? Perché si dice che storicamente gli italiani si sono fatti con la prima guerra mondiale. Sicuramente neanche lì si sono fatti gli italiani, ma... Probabilmente sì, ecco, sì, altrimenti non avrei citato Gaber. No, capisco, è vero. Dipende da, dipende da, secondo me dipende molto, scusa, ma chiudo, chiudo la chat, dipende moltissimo, secondo me, da quanto un popolo ha coscienza di sé. L'italiano è campanellista come forse nessun altro stato in Europa e sicuramente ci si sente, non per citare i napoletani, ma io sono napoletano prima che italiano. Figurati europeo, cioè, per dire, purtroppo, se non si ha coscienza di quello che c'è fuori, ma non fuori dall'Italia, fuori dal proprio giardino, magari avere, non basta mettere la bandiera fuori dal comune, magari, sarebbe bellissimo. Manca, manca, non solo, non solo una comunicazione molto più incisiva, che in realtà con il Next Generation è stata fatta, però è stata fatta per il Next Generation e hanno fatto le pubblicità. Io quando ho visto le pubblicità su YouTube del Next Generation mi è venuto il cazzo duro, ho detto, finalmente, finalmente l'Unione Europea fa qualcosa per farsi vedere come Unione Europea, come organizzazione che fa delle cose buone per i cittadini europei. E c'erano tutte le cose modernissime, tutti i giovani ho detto, oh, Dio mio, e poi da designer, figurati, faccio il lavoro questo, perciò ho detto, oh, Dio mio, ci siamo. Il problema è appunto, secondo me, tra i problemi c'è il provincialismo di una certa Italietta, che ovviamente pensa, l'Italietta politica, l'Italietta partitica, pardon, che pensa alla prossima elezione e non alla prossima generazione, perciò dice, qual è la share più ampia di votanti? I boomer? I vecchi di merda? Perfetto, diciamo quello che va bene, i vecchi di merda. Perfetto. E perciò cosa pensi all'Unione Europea? Pensi alle pensioni minime? No, ovviamente non lo dico a te, parlo ai partiti del cazzo. Cioè, penso ad alzare la pensione minima, penso all'Inps, penso a... basta. Abbiamo fatto arrabbiare Ruben. Ha toccato anche il microfono, è un segno questo. Su queste robe io mi inferocisco perché non abbiamo... noi siamo della stessa generazione. Non lo so, io sono del 95, tu? Io sono del 92. Ok. Perciò sì, siamo comunque... Quindi sei più vecchio, posso dire. Esatto, assolutamente. No, volentieri. Cioè, nel senso, non mi fa star male questa cosa. No? No, no, no. Ho 31 anni appena compiuti, sono molto felice. Mi porti meglio? No, mi dissolto. Scherzo, scherzo. No, comunque per chiudere, cioè, anche per questo serve la volontà politica. Cioè, serve la volontà politica di far capire che c'è qualcosa fuori dalla propria realtà. Qualcosa che ci sta aiutando è la volontà di aiutarci. E tra l'altro, se non fai a livello nazionale, perché poi c'entra anche il livello nazionale, per fare comunicazione riguardo l'Unione Europea, ma se non ti interessa, e perché dovrebbe interessarti se i tuoi votanti ti hanno votato per la pensione? Capito? Quindi, tendenzialmente, hai più possibilità te di vederla di me, così, venendo a naso. Poche potenzialità, non vorrei darti troppe speranze. No, sì, magari. No, cioè, purtroppo sono della generazione di quelli che se ne vanno. Altro dettaglio mica da scherzo. Sì, altro dettaglio mica da ridere, perché infatti, ecco, una cosa che io ho notato è che, vabbè, poi alla fine sono sempre gruppi che girano nella stessa bolla, però immagino che tu l'abbia notato anche tu, e anzi si nota se si entra sul Comitato Ventotene, o comunque Ventotenez, e via discorrendo, e tutti i miliardi di sottogruppi che fate, le pagine di tag per tenere, i gruppi, i conti, eccetera, 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 siete una community bella attiva, ops, community non si può più dire, comunità, così non sono misterofili. Ecco, io noto tanta gente che è all'estero, in fin dei conti, ma anche quelli più attivi, io mi ricordo, senza fare nomi perché non ci sono, però quando bazzicavano i gruppi, quelli più attivi, o erano in Svizzera, o erano in UK, o erano in Germania, difficilmente trovavi gente che stava in Italia, e spesso volentieri era gente magari che stava in Italia, era dentro il Comitato e poi è andata all'estero e via discorrendo. Cioè, io mi ricordo queste storie, non so se te le ricordi anche te e se vedi che c'è ancora questa dinamica. No, una delle prossime generazioni, no, perdono, una delle prossime puntate sarà proprio sul parlare con tre, non per forza soci, persone che se ne sono andate, più o meno della nostra età, chiedere i motivi, chiedere cosa ti farebbe tornare, ovviamente domanda quasi retorica, e come stai e come stavi prima soprattutto. Ma come puoi non andartene se le condizioni economiche non sono neanche lontanamente le stesse? Se la potenzialità per creare un futuro solido, una famiglia, per avere, non dico neanche la casa di proprietà perché comunque costa sempre tanto, ma la potenzialità di non spendere il 70% del proprio stipendio per pagare l'affitto, quanto prendi tra l'altro, appunto, legato a quello che ho detto prima, quanto prendi, quanto paghi di affitto, quanto puoi reinvestire sia nella tua attività, che nei tuoi hobby, che nella tua famiglia, queste cose qua in Italia per un certo tipo di persona che è la classe media non si può fare, non c'è più una classe media per vari motivi. Io le capisco benissimo. La mia ragazza vive a Londra, torna molto raramente, adesso è qui, però tornerà presto a Londra. Io la raggiungerò. Perché ho dovuto aprire partita IVA, sono una delle finte partite IVA, mi autodenuncio per prendere uno sputacchio di stipendio. Ragazzi, cioè, sono queste le condizioni che ci vengono offerte. Ieri sera parlavo giusto con una ragazza, penso che sia appena uscita da giurisprudenza, abbia fatto altri corsi, ovviamente la magistrale, non la magistrale, ma insomma qualche corso dopo, e ha ricevuto un'offerta di lavoro in Francia, e ha detto, testuali parole quasi, a me è sembrata una cosa pazzesca che mi sembrava di essere nell'iperuraneo, ha detto lei, perché nell'offerta di lavoro c'era l'offerta economica. Sì, 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 ma noi qua abbiamo una serie che potrebbe piacerti, che sostanzialmente cosa facciamo? Chiediamo ai nostri utenti, quelli che sono all'estero, di venire a raccontarci com'è vivere all'estero. L'ultima puntata l'abbiamo fatta sull'Australia, e c'è questo ragazzo, Mattia, che saluto ovviamente, se non vado errato, spero di aver fatto la figura di merda assurda, quindi nel caso chiedo scusa, però c'è Mattia che ci raccontava appunto che banalmente lui nelle offerte di lavoro trovava lo stipendio più il fondo accantonamento pensionistico. Eh sì, eh sì. Cioè, nel senso, noi e Giamello sentiamo il livello del CCNL con a fianco il nome del CCNL, perché bastardi sanno perfettamente che primo e sesto, a seconda di si rigirano, no, faccio la battuta ovviamente. Però ecco. Proprio così, proprio così. Cioè, è una cosa veramente triste. Tra l'altro tu hai citato Salvini, io mi ricordo che il Comitato Ventotenne un po' di pubblicità l'ha presa, grazie a Salvini, no? Ma Salvini è bravissimo a fare pubblicità gratuita. Cioè, quando si prende contro una persona... Comunque era Matteo, chiedo scusa, ecco. Salvini, sì, sì. No, no, Matteo. No, lo so. Facciamo pubblicità a Matteo Salvini, che lui è bravo a fare pubblicità. Niente, mi stavano trollando in chat. Ah, ok. Ma salutiamo. Baccia salami e lecca prosciutti. Salutiamo Matteo, che è stato molto bravo nella sua puntata. Gli auguro tutto il bene possibile in Australia. No, la questione è che Salvini ci aveva fatto pubblicità perché noi eravamo andati in piazza Milano. No, è ironico. Cioè, è meraviglioso perché in una, penso, fosse... Non mi ricordo più neanche cosa fosse, io non c'ero ancora dentro il Comitato. E aveva preso una nostra foto e aveva preso praticamente in giro tutte le persone presenti nella foto. Che è una mossa da figli di puttana. Mio' opinione personale. Condivido. E poi dopo aveva scritto sopra, che è poi la cosa che ci ha fatto impazzire, in positivo, eccoli gli euroinomani. Abbiamo detto... Siamo andati in brodo di giugiole perché è un bellissimo termine. non era suo, ovviamente era del suo social media manager perché non gli voglio neanche attribuire le genialate che sono uscite dai suoi canali, dai suoi account social. Però è stato... Abbiamo usato. Abbiamo usato, scusa. Cioè, ci danno uno slogan gratis, un modo per farci pubblicità gratis, per l'amore di Dio. Oddio. No, no, infatti. Infatti. Io andrei a chiudere con due battute sul podcast che avete realizzato. Podcast che, diciamo, oltre all'attività che fate, diciamo, ormai sul web, in tutte le salse, ecco, ha aggiunto qualcosa in più, secondo me, al comitato, sai. Qualcosa di molto valido. E anzi, ti dico che è un prodotto di estrema qualità. Grazie. Di estrema qualità. Diciamo che, ripeto, complimenti non sono fatti così a caso né per senso di reverenza. non mi interessa. No, 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 figurati. No. E per farti capire quanta qualità, per far capire anche chi ci segue, quanta qualità c'è e non è una sponsor, a meno che uno vuole pagare dopo Ruben e ci sta, però ho apprezzato molto, e ne parlavo proprio con Anna, sabato, il fatto che abbiate fatto un grande mea colpa, soprattutto tu, quando hai sbagliato quella cosa su Navagni, nell'ultimo podcast. questa cosa, cazzo, ma sai che è difficilissimo trovarla? Cioè, nel senso, tu hai fatto una domanda dentro il podcast, in post-produzione sei stato lì, perché è avvenuta in post-produzione per forza, lei ha detto all'inizio ti sei scusato durante, quando hai fatto l'errore, che per Dio erriamo tutti, ci mancherebbe, e poi l'hai ripetuto anche alla fine. Sì, appuntata, però ecco, è tanta roba, no? Io mi sono sentito una merda quando ho fatto quella di fare. No, no, ti spiego, ti spiego, no, la questione, spiego anche quello che è successo, io mi ricordavo una domanda, tra l'altro, che non è stata neanche proposta dalla mia redazione, che di solito mi propone le domande sugli ospiti, e io preferisco sempre impostare le interviste in modo appunto colloquiale, così, viene un po' più, viene un po' più rigido di come viene con te, perché ovviamente c'è la post-produzione, c'è un po' di lavoro dietro per ciò, eccetera, e però colloquialmente ad Anna Zafesova, che era l'ospite della puntata, giornalista russa in Italia da un bel po', con cui parlavamo della nuova Russia di Putin, ho chiesto una domanda su Navalny, e io ricordandomi erroneamente ho chiesto se Navalny fosse, perché Navalny difendesse l'occupazione della Crimea dal carcere, e la risposta mi ha fatto dire cosa cazzo mi ricordavo? Cosa cazzo mi sono ricordato? e io sono, non si vede perché non ho pubblicato la registrazione, ho letteralmente detto porca puttana, la sua risposta per fortuna è stata talmente tanto ampia, concisa, ma decisa nello spiegare in realtà cosa ha fatto Navalny, cosa ha detto, cosa eccetera, e io le ho chiesto scusa, ma ha detto sì, cioè no, non ti preoccupare perché abbiamo potuto parlare anche un po' della situazione di Navalny, il fatto di dover chiedere scusa secondo me è un è un dovere per chi fa domande sbagliate, allora io ho pensato, ho fatto questa domanda alla mia redazione, ho fatto questa domanda sbagliata, la tagliereste o la terrestre con ovviamente i disclaimer, tutti mi hanno detto tienila con i disclaimer, e era la mia prima opzione in realtà, perché io preferisco avere un rapporto molto molto sincero aperto con chi con chi ci ascolta, ma semplicemente perché uno non lo fa nessuno, si fanno sempre lavori giornalistici di qualsiasi tipo, si fanno sempre articoli di accusa grossi così in seconda pagina, e dopo la smentita è così in ventotto e mi fa incazzare, io ho smesso di leggere i giornali proprio per questo, no no, ma infatti io ad esempio apprezzo Pacella Politica proprio una sezione diciamo dove hanno commesso degli errori e delle imprecisioni, quindi ci può stare, ci può stare, poi capita, cioè nel senso certe volte magari sai la domanda è sbagliata non tanto perché tu la perché il concetto è sbagliato quanto più che altro perché lei posta in una maniera veramente erronea, tipo ad esempio io ieri non so per l'absus o che cosa ho detto che la Germania è stata conquistata diciamo dalla Russia, ok, intendendo ovviamente la Germania dell'Est, ovviamente era un lapsus e io intendevo dire che fino a diciamo alla caduta del muro di Berlino la Germania dell'Est è stata all'interno dell'influenza dell'influenza russa qualcuno me l'ha fatto notare sotto i commenti ho detto cazzo effettivamente si può capire anche un'altra cosa effettivamente anche se lì se proprio uno vuole andare a fare le pulci potrebbe dire sì volevano spartirsi la Polonia tutto sommato però no ci manchia in effetti eh sì no no penso che comunque da quel punto di vista sia necessario sempre ehm a dire le proprie colpe nel senso eh fai un fai letteralmente qualcosa che i giornalisti non fanno cioè parlare con giornalisti magari o con realtà opinione eccetera che non vengono coperte eh cioè almeno comportatemi meglio di un giornalista visto che fai non sei un giornalista fallo meglio cioè chiedi scusa quando sbagli ah no ci sta ci sta anche Shai io mi ricordo che è uno di quelli che se sbaglia insomma anche lui apre la puntata su queste cose poi ormai diciamo che il tempo è sempre quello che è quindi diciamo si recuperano poche puntate però mi ricordo che quando seguivo quindi non so quando ero ancora all'università e lo seguivo quotidianamente più e più volte è successo questa cosetta qua quindi per dire questi sono poi si possono avere opinioni diverse però secondo me sono le belle cose che ti fanno capire comunque che c'è dietro un certo lavoro c'è dietro una certa passione e non c'è voglia di costruire una narrazione semplicemente oh l'errore capita ragazzi miei sì sì esatto errare umano ecco no 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 infatti ma infatti sono molto tranquillo ed è stato veramente molto apprezzato me l'hai detto tu me l'ha detto anche altre persone mi hanno detto ti sei scusato un po' troppo no no ognuno chiede scusa per quello che è ci mancherebbe non esiste troppo tanto troppo poco anche perché considera che poi chi è che ti chiede troppo chi è che ti dice troppo tanto certe volte poi viene a dirti ti sei scusato troppo poco quindi non ci si becca mai ovviamente assolutamente perché poi la gente è sempre da ridire va bene va bene io direi che è stata una bella chiacchierata molto intensa e anzi sono contento devo dire che la volevo già fare da tempo perché insomma avevo detto a Ruben quando quando ci siamo visti a Bologna e ce l'avevo lì poi insomma uno a 32.000 cose dice no no ma questa settimana gli iscrivo questa settimana gli iscrivo e sono contento finalmente di averla fatta quindi ti chiedo scusa per per averti tenuto lì in stand by no ma figurati ma figurati no no più che altro sì no ci eravamo trovati a Bologna per la questione ucraina certo assolutamente sì 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 assolutamente questione super importante io vedo che siete estrattivi immagino non sia non sia sempre te insomma non sei sempre te a gestirla ma no io non faccio mai niente cioè no io non faccio niente ho spiegato male ho spiegato male no io sono sempre attivo tutti i giorni ma si occupano delle pubblicazioni un gruppo di 20 persone che si occupano anche su twitter anche su twitter è un gruppo a parte di ulteriori 5-6 persone no ragazzi siamo copertissimi da quel punto di vista e no io sono solo il presidente che guarda e tra l'altro fra 20 minuti ho il direttivo del comitato perciò no con altre 7 persone separate perciò siamo in tanti siamo in tanti belli attivi diciamo che siete molto attivi se posso sulla basciata russa in Italia quello sì cioè nel senso io vi seguo anche perché insomma non devo star lì a leggermi i tweet di ambasciata russa Italia quelli più idioti so che comunque mi finiscono nel feed perché gli tirate due o tre blastatine ecco il nostro twitter è molto bravo sì 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 devo dire faccio i complimenti anche lì perché fanno un'opera secondo me anche di correzione tante volte semplice per culaggio ci può stare sono su twitter e trollo ci sta però tante altre volte anche di informazione mi sembra che fate più informazione però su facebook sì 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 anche su instagram siamo è instagram lo seguo molto di meno nel senso che lo uso da creator quindi non so dirti eh ma giustamente sì 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 no la questione è che siamo abbiamo con il nuovo gruppo media che noi io sono attivo sono presidente da ottobre da ottobre abbiamo nominato i vari responsabili e abbiamo detto ok cosa funziona dove cioè su facebook funziona un certo tipo di comunicazione informazione eccetera su instagram funziona un certo tipo di contenuto su twitter continuate a blastare questo vi ho detto voi voi andate la fanteria perfetto noi cioè gli altri ragazzi sono attivi sia su facebook che su instagram ma con due tipi di contenuti diversi ma proprio perché non puoi fare la stessa cosa sono molto bravi sì informazione specialmente assolutamente assolutamente diciamo che il lavoro di team ad esempio io penso di non aprire instagram di economia in italia nel 1972 perché altrimenti muoio cioè nel senso faccio questo a tempo pieno e poi abbiamo finito no fortunatamente diciamo poi c'è tanta gente che dà una mano e quindi questo permette ai vari progetti di crescere tante volte è più quello che dai rispetto a quello che ricevi però qualche soddisfazione ovviamente arriva molto divertente altrimenti non lo faresti ci manca assolutamente assolutamente cento per cento allora io ringrazio Ruben vi invito assolutamente a seguire il comitato ventotenne poi a seconda insomma c'è stata una piccola presentazione che appena fatto involutariamente seconda di quello che vi interessa se volete farvi una grignata andate su twitter se volete informarvi attivate le campanelle su facebook ci sono le campanelle su facebook no vabbè attivate quello che è quello che è esatto quello che è però ecco il mio consiglio perché davvero è un podcast a settimana quindi non è neanche troppo pesante seguite Elvis appunto su spotify insomma google podcast eccetera 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 che secondo me ha senso magari poi qua sotto Ruben se puoi passami su whatsapp qualche link che li metto qua sotto quando ricarico la live quindi buttate un occhio che in descrizione troverete sicuramente degli elementi interessanti dei link e quindi grazie mille ancora Ruben grazie mille a te e avanti ottimo ottimo grazie mille al pubblico e noi ci vediamo perché abbiamo finito il trimestre una settimana di vacanza ragazzi almeno una settimana di vacanza quindi ci rivediamo lunedì prossimo un abbraccio ciao 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 a tutti ciao a tutti